Nel giorno di ogni santi e nel successivo dedicato ai defunti, cimiteri puliti e visita ai cari e proprio in questi giorni buone notizie sono arrivate per l'edilizia cimiteriale. Il comune investe oltre 22 milioni di euro mentre è pronta l'edicola funeraria di San Giuseppe dei Minimi nel cimitero monumentale dove sono sepolti 250 defunti. Sono in programma tanti altri investimenti come l'ultimazione di un complesso a fine gennaio con 120 nuovi loculi. Degli interventi, uno dei più consistenti riguarda la demolizione e ricostruzione del complesso dei nuovi martiri per il quale c'è il progetto di fattibilità tecnico-economica e la realizzazione di un nuovo loculario per 2760 defunti per il quale c'è il progetto definitivo, ma ci sono stati e ci saranno tanti interventi anche nelle frazioni. Un investimento importante da parte del comune dell'Aquila su tutti quanti i cimiteri, ricordo che nel nostro comune ci sono 20 cimiteri, investimenti che riguardano sia la ricostruzione post-sisma, soprattutto nel cimitero monumentale, ci sono diversi interventi in corso e molti altri sono stati programmati e soprattutto nella gestione e nella manutenzione ordinaria dei cimiteri. Soltanto il settore ambiente nel cimitero monumentale ha investito un milione di euro quest'anno, così come 500 mila euro nel cimitero di Santa Rufina e in tutti i cimiteri del territorio. Stiamo lavorando a 360 gradi perché anche la gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata a SM, aumentando le risorse per la gestione e quindi cercando di aumentare il livello della gestione di tutti i nostri cimiteri, così come è stato rivisto il regolamento cimiteriale.